ciao runners e ciao amanti della corsa io sono lorenzo maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 prima di partire devo ringraziare assolutamente il mio amico e compare di allenamenti joseph jeche che oltre a tutto questo è pure diventato sostenitore di questo podcast grazie veramente joseph di cuore e a proposito di sostenitori patrons e simili l'idea per la puntata odierna nasce proprio da una discussione di ormai più di qualche mese fa che si era fatta nel gruppo telegram dei patrons per l'appunto come sempre come d'abitudine io quando succedono queste cose prendo le idee le archivio e poi con molta molta calma le sviscero anche a mesi e mesi di distanza come in questo caso il tema che si era dipanato che poi appunto l'argomento dell'episodio odierno è come si possa abbassare la frequenza cardiaca in special modo per noi ovviamente quando si corre il motivo anche molto banale se vogliamo è che più sarà bassa la frequenza cardiaca a parità di passo medio al chilometro e più si andrà forte o meglio potremmo raggiungere velocità più elevate a parità di frequenza cardiaca infatti meno battiti uguale meno fatica e conseguentemente anche prestazioni nel complesso migliori prima di affrontare questo argomento mi tocca fare una premessa doverosa ed importante una di quelle che faccio molto molto spesso qua dentro quelli che poi andrò a raccontare sono dei consigli di massima non sono un medico e ovviamente non voglio nemmeno sostituirmi a loro quindi per qualsiasi problematica vera seria rivolgetevi ad uno specialista un cardiologo o un medico sportivo per esempio ed allora come faccio sempre in queste occasioni sono andato un po a spippolare online ed in generale tra le mie risorse per vedere cosa trovavo e poi effettivamente quali potessero essere le metodologie adatte allo scopo da mettere in pratica pur con tutti i miei limiti a livello di conoscenze mediche ma prima di parlare delle varie tecniche farei un piccolo passo indietro definendo perché la frequenza cardiaca vada ad aumentare durante l'esercizio fisico essa cresce quando l'organismo è sottoposto ad uno stress maggiore perché deve fornire più rapidamente ossigeno e nutrienti alle varie aree del corpo in buona sostanza e semplificando tantissimo il cuore è l'elemento deputato diciamo così nel mandare in giro tutti i vari elementi pompando per l'appunto sangue ossigeno e appunto gli elementi che dicevo in giro per tutte le nostre parti che necessitano di nutrienti per andare avanti mentre facciamo fatica ho semplificato veramente una marea ed è anche per questo che col passare del tempo durante una seduta di allenamento i battiti medi tendono a salire un pochettino per esempio se fate delle ripetute allo stesso ritmo al chilometro tutte quante è probabile comunque che nelle ultime avrete una frequenza cardiaca leggermente più alta chiaramente gli atleti seri con un sistema cardiovascolare maggiormente allenato quindi con una rete di capillari più ampia un volume di plasma sanguigno maggiore saranno in grado di distribuire l'ossigeno e tutti i vari elementi in modo più efficace di conseguenza per loro il sangue non avrà bisogno di fare tantissimi giri intorno al sistema cardiovascolare il che si traduce in una frequenza cardiaca mediamente complessivamente più bassa ma poi oltre all'intensità mera dell'esercizio ci sono anche dei fattori extra quotidiani che possono essere anche ambientali fisici psicologici vi elenco i principali temperatura umidità altitudine terreni difficili e tecnici da affrontare disidratazione abbigliamento eccessivo o scomodo mancanza di sonno stress o preoccupazioni varie malanni e uso di farmaci bassi livelli di glicogeno e stanchezza generale oltre chiaramente ad avere ognuno di noi delle predisposizioni che sono genetiche oltre anche all'età e alla salute generale ci vogliono anche più giorni per il corpo dopo momenti di elevato impegno fisico per recuperare per fare un esempio veramente scemo possiamo farci un giorno un workout di scatti ripetute ad alta intensità e un altro giorno invece uscire e fare serata alcolica con gli amici il risultato a livello cardiaco l'indomani sarà lo stesso una frequenza riposo elevata appunto la mattina dopo non si tratta di una coincidenza ma di un riflesso di quanto il corpo si è stato messo sotto stress si è stato impegnato in precedenza da attività faticose possiamo dire insomma come la frequenza cardiaca sia un ottimo indicatore del livello generale di stress e affaticamento che il corpo sta attraversando in quel momento ed è anche per questo che molte persone tra cui anche il sottoscritto misurano i propri battiti al mattino appena svegli oltre alla variabilità cardiaca poi magari dell'hrv cioè della variabilità cardiaca ne parleremo meglio in un'altra puntata a parte che oggi direi che c'è già abbastanza carne al fuoco e verrà un episodio piuttosto lungo per venire al running in modo un po più stretto battiti più elevati durante la corsa significano che il corpo è sottoposto ad uno sforzo significativo di conseguenza deve pompare il sangue più velocemente per gestire il fabbisogno di ossigeno e nutrienti che vedevamo anche poco fa ultima parentesi personale prima di vedere le varie tecniche quando ho iniziato io a correre come tutti i principianti non avevo idea di tutti questi parametri ma percepivo distintamente il cuore in gola per così dire anche dopo cinque minuti di corsa e soffrivo come un cane penso ci sia passati un po tutti quanti noi qua all'inizio credo che il running diventi molto più piacevole quando si riesce a sorpassare questa soglia e correre corse lente con più piacere perché non è più una fatica che è poi lo scoglio che spesso frena tantissimi neorunner correre è una sofferenza chi cavolo me lo fa fare ecco il motivo che ovviamente ho compreso a posteriori è anche proprio derivato dai battiti cardiaci cioè quando si arriva a correre una corsa lenta senza quel cuore in gola cui facevo riferimento pochi secondi fa ma invece al contrario si gode nel farlo perché sia nella piena zona di comfort e zona 2 a livello di frequenza cardiaca per intenderci quando cioè si arriva al punto di aver abbassato la media dei nostri battiti e sia così ancora più piacere nell'uscire a correre purtroppo ci si arriva solo con il tempo ma torniamo a noi e finalmente vado a delencarvi un po le varie tecniche e metodologie buone per provare perlomeno ad abbassare i nostri battiti come sentirete una prima parte sarà più dedicata alle tecniche di allenamento atte a migliorare le prestazioni del nostro fisico mentre la seconda metà vedrà più che altro suggerimenti generici e di buon senso ogni tanto citerò qualche studio scientifico come faccio da abitudine vi lascerò tutti i relativi link nelle note dell'episodio ma iniziamo numero 1 costanza e pazienza più che una tecnica questo è un mantra una filosofia di vita la corsa in generale è uno sport che richiede tanta pazienza e consistenza però un allenamento costante è il modo migliore e più graduale per abbassare la frequenza cardiaca più il corpo sarà allenato e meno fatica farà quindi le pulsazioni diminuiranno a parità d'impegno ed arrivare a correre con pochi battiti medi cosa cui accennavo pochi secondi fa relativamente al piacere di correre non è una cosa che si ottiene da un giorno all'altro potrebbero essere necessari diversi mesi di allenamento strutturato prima di riuscire a correre comodamente a bassa frequenza cardiaca perciò è necessario creare una base adeguata che vediamo adesso soprattutto nel punto 2 ma anche in parte in quelli a seguire e quindi numero 2 fate allenamenti a bassa intensità ovvero correte piano anche se vi sembra di andare veramente lentissimi pianissimo anzi per un principiante potrebbe anche voler dire camminare ma non ci si devono assolutamente fare problemi in questo senso va benissimo camminare se necessario allenarsi con sforzi relativamente semplici è la via principale per migliorare l'efficienza cardiaca e per ridurre le pulsazioni medie per venire alla corsa ci vuole la base come dicevo prima ovvero corsa lenta che poi se vogliamo sono le fondamenta di qualsiasi preparazione anche dei pro anche dei più allenati il modo più semplice ed efficace per ottenere un abbassamento duraturo di questa frequenza cardiaca è allenarsi in modo regolare giusto per portare qualcosina di più scientifico un'analisi del 2018 di pub med central ha rilevato che l'esercizio fisico regolare possa ridurre in modo consistente la frequenza cardiaca sebbene qualsiasi tipo di esercizio possa risultare utile allo scopo gli autori suggeriscono che proprio gli sport di endurance assieme allo yoga possano essere i più adatti numero 3 allenamenti lunghi un passo subito successiva quanto appena visto sono appunto le corse lunghe chiaramente un neo runner non potrà sostenere sedute di chissà quale durate di impegno ma ci si arriverà con il tempo però gli allenamenti lunghi sono veramente importanti per andare ad aumentare la resistenza e stimolare gli adattamenti cardiocircolatori ma cosa intendo con lunghi parlo di sedute di durata oltre l'ora e mezza che per i maratonetti o anche i trail runner poi non saranno nemmeno chissà che cosa diverso però come dicevo prima per chi ha iniziato a correre da poco e quindi oltre ad arrivarci a questa distanza senza fretta un'altra soluzione potrebbe essere quella di alternare corsa e camminata gestendo così l'intensità e la pratica numero 4 ripetute ed intervalli facciamo uno step ulteriore un runner un pelo più evoluto sicuramente metterà in tabella le ripetute o comunque allenamenti con intervalli e cambi di ritmo dove spingere maggiormente ecco anche loro possono aiutare ad abbassare i battiti medi del nostro corpo questo perché si andrà ad insegnare al cuore che ci si può andare più veloce e quindi il fisico dovrà di conseguenza adattarsi per farlo andrà ad accrescere l'agitata sistolica che in parole più semplici sarebbe la quantità di sangue pompato in una singola contrazione in questo modo serviranno meno battiti per mandare in giro per il corpo l'ossigeno e tutti i nutrienti richiesti si tratta in ogni caso quelle delle ripetute di sedute più complesse per chi avesse appena iniziato a correre ed essendo workout e che richiedono anche tempo per essere assimilati non bisogna mai eccedere qua torna buona la famosa regola dell 80 20 dove questi allenamenti di qualità dovrebbero cubare circa il 20 per cento dei chilometri totali settimanali ma più in generale se avete appena iniziato non le fate le ripetute fate tanta tanta corsa lenta che quella già da sola basta quinto fate trail running anche qui se avete appena iniziato a correre andateci piano e non è detto che si debba per forza inserire la corsa su sentiero per quanto meravigliosa in tabella però giusto prima vi dicevo come correre su terreni tecnici e complessi potesse contribuire lì per lì all'inalzamento della frequenza cardiaca ecco il trail vi può aiutare abituandovi in qualche modo a correre su queste complessità del resto quando si corre invece per strada non si deve pensare a nulla se non a mettere un piede all'altro o quasi insomma qualche macchina qualche pedone ma è molto più facile invece a causa dei saliscendi oltre al terreno che cambia alle radici alle foglie ai sassi e così via la corsa su trail costringe a rallentare oltretutto qua non esistono ritmi esatti da mantenere ma gli effetti stimolanti dell'allenamento sul vostro corpo e sulla vostra capacità aerobica saranno ugualmente significativi un ulteriore vantaggio del trail running è che oltre ad allenare la corsa va anche a migliorare la forza inoltre si sviluppa pure l'equilibrio la propriocezione e si stimolano i muscoli stabilizzatori sesto lavorate sulla tecnica ricorsa primo consiglio sulla tecnica cercate di non innalzare e muovere eccessivamente le braccia infatti più in alto saranno rispetto al cuore e più contribuiranno ad aumentare la frequenza cardiaca sì che nessuno corre con le mani in alto però evitiamo comunque di sbracciare questo perché il corpo dovrà fare uno sforzo extra per sostenerle che si tradurrà in un aumento dei battiti e anche per questo motivo che istintivamente quando si è molto stanchi si tende a tenere proprio le braccia a penzoloni secondo aspetto legato alla tecnica in generale un movimento efficiente con poco dispendio energetico ci aiuterà perché pretenderà dal fisico meno ossigeno e risorse per muoversi pertanto sarebbe giusto avere una buona tecnica di base complessiva per far sì che si minimizzino gli sprechi energetici e si richieda quindi anche meno lavoro al cuore numero 7 mantenetevi idratati iniziamo pian piano a spostarci dalle tecniche di allenamento e diciamo che il grosso dei metodi è finito da qua in poi iniziano più che altro dei consigli questa è una soluzione più temporanea se vogliamo per quando ci si allena e non per far diminuire in modo definitivo la frequenza cardiaca comunque quando il corpo è disidratato il cuore deve lavorare di più per stabilizzare il flusso sanguigno di conseguenza innalzerà il numero di battiti uno studio del 2017 ha rilevato che un bicchiere d'acqua da 335 millilitri possa ridurre la frequenza cardiaca riposo per un periodo di 30 minuti e quindi in generale bere molto durante il giorno può ridurre i battiti di una persona e ovviamente lo stesso vale mentre si sta correndo 8 respirazione diaframmatica la respirazione e la frequenza cardiaca sono strettamente collegate tra di loro solo che spesso non ci pensiamo in questo momento probabilmente non state respirando intensamente e la vostra frequenza cardiaca è appena superiore a quella riposo ma se correte un chilometro ad esempio il più velocemente possibile la vostra respirazione sarà rapida e la frequenza cardiaca vicina a quella massima pertanto sarebbe anche bene sapere in qualche modo respirare sebbene sia una cosa che facciamo spontaneamente senza farci troppo caso invece sarebbe da avere una respirazione più controllata che semplificando potremmo chiamare di pancia ecco quello potrebbe aiutarci più nello specifico si chiamerebbe respirazione diaframmatica ovvero espandendo il diaframma verso il basso invece di respirare solo attraverso il petto attraverso la parte alta del busto questo può influenzare la frequenza cardiaca durante la corsa cercate anche di mantenere una respirazione che sia il più regolare possibile a patto ovviamente di venire incontro alle difficoltà tecniche di terreni di ripetute eccetera eccetera anche questo contribuirà a regolarizzare e abbassare il battito cardiaco perché aumenterà l'ossigenazione consiglio numero 9 non assumete tè caffè ed altri stimolanti lo so che alcuni di voi si prendono un caffè un biscottino e poi escono a correre e magari questa è la vostra regolarissima routine tuttavia pochi punti fa vi parlavo della disidratazione ecco gli stimolanti possono causarla aumentando il carico di lavoro del cuore ad esempio è provato che dosi elevate di caffeina possono aumentare la disidratazione con conseguente innalzamento dei battiti numero 10 limitate il consumo di alcol lo so che questa fa male e onestamente io non mi nego mai una birretta un bicchiere di vino ogni tanto ci mancherebbe altro tuttavia giusto dire che esistono prove attendibili che dimostrano come il consumo di alcolici possa causare disidratazione inoltre l'alcol è anche una sorta di tossina e l'organismo deve lavorare di più per elaborarlo ed eliminarlo questo può provocare un aumento della frequenza cardiaca diciamo che bene con moderazione potrebbe bastare 11 curate l'alimentazione proseguendo un po con lo stesso filone sarebbe bene anche mangiare in maniera corretta perché può aiutare nel ridurre la fatica durante la corsa e quindi ad abbassare la frequenza cardiaca questo non solo quando vi allenate nel durante ma anche in generale nella quotidianità vi faccio un esempio proprio cretino giusto perché mi è successo anche banalmente proprio quest'oggi ieri sera sono andato a mangiare una pizza con la mia ragazza e sopra la pizza ci ho messo un sacco di roba cicciona appena sveglio avevo una frequenza cardiaca leggermente più alta del solito eppure quando sono andato a correre non solo nei primi chilometri mi sentivo più appesantito del solito ma avevo anche qualche battito in più a parità ovviamente di ritmo ora non è che dobbiamo negarci una pizza o qualsiasi altra gioia della vita per risparmiare qualche battito medio in allenamento per carità godiamoci la vita ma il concetto è più ampio e vale proprio per ciò che si assume abitualmente tutti i giorni non una volta ogni tanto anche perché una dieta sana può migliorare la salute e quindi il funzionamento del cuore non sto ora a farvi proprio la lista della spesa non avrebbe senso vi do giusto 3 4 consigli rapidi di massima diciamo che questa dieta dovrebbe essere tendenzialmente ricca di frutta e verdura proteine magre e cereali integrali gli alimenti e gli integratori ricchi di antiossidanti e grassi sani possono abbassare la pressione sanguigna facilitando il pompaggio del sangue da parte del cuore ma anche gli alimenti ricchi di potassio contribuiscono ad abbassare la pressione cercate poi di evitare in generale cibi raffinati grassi saturi una sana alimentazione fa bene alla vostra salute e quindi di conseguenza anche alle vostre performance dodicesimo dormite a sufficienza qua si va veloci la mancanza di sonno mette sotto stress l'intero organismo e quindi dentro il organismo è compreso anche il cuore c'è anche uno studio del 2020 che ha rilevato che quando le persone si discostano parecchio dal loro orario abituale in cui vanno a dormire vada aumentare la loro frequenza cardiaca a riposo qui si effettivamente si parla di battiti a riposo ma è probabile che un'alta frequenza cardiaca ce la si porti dietro diciamo così per un po di ore specialmente se poi si corre al mattino appena svegli tredicesimo ed ultimo riducete lo stress ho appena accenato al discorso stress legato alla mancanza di sonno ma più a tutto tondo lo stress può risultare anche lui un fattore in grado di innalzare i battiti infatti si potrebbe andare ad alterare il tono del sistema nervoso simpatico che è il compito di regolare la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa in presenza di forte stress questo andrebbe in qualche modo a premere sull'acceleratore per usare un paragone automobilistico che provoca di conseguenza un aumento della frequenza cardiaca della pressione del consumo di ossigeno che poi questa potrà sembrarvi una cosa ovvia cioè nessuno vorrebbe sentirsi stressato mi sembra logico ad ogni modo cercate per quanto possibile di ridurre le tensioni durante le vostre giornate so bene che non è affatto facile in determinate situazioni sicuramente ci possono essere dei trucchettini ci possono aiutare anche di piccoli momenti che ne so di stacco dal lavoro e dagli impegni così come potrebbero essere esercizi di respirazione yoga o meditazione a volte bastano veramente pochi minuti per staccare un attimo la spina e abbassare una frequenza cardiaca elevata che poi ci si potrebbe portare dietro anche durante un allenamento con uno sforzo che andrebbe ad accrescere ulteriormente una frequenza cardiaca già alta di per sé anche se poi personalissima opinione la corsa può essere un altro degli strumenti a vostra disposizione proprio per scacciare un po di tensioni e logori dovuti al quotidiano ed eccoci con quest'ultimo consiglio la lista si è conclusa per chiudere però qualcosa voglio dire ci tengo a ribadire come la pazienza sia assolutamente un elemento imprescindibile per riuscire ad abbassare sempre di più la frequenza cardiaca ci vuole molto tempo affinché il fisico recepisca questi adattamenti la storia principale è continuare ad allenarsi 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 e vedere man mano i risultati delle sudate cui si è sottoposti è chiaro come anche la quantità di sedute di corsa settimanali e quindi il volume complessivo possono influire su questo fattore ma soprattutto per chi corre da poco è necessaria molta molta gradualità comunque in linea di massima sarebbe bene mantenere un minimo sindacale diciamo così di tre uscita settimana costantemente per qualche tempo per iniziare ad ottenere dei risultati significativi se si è appena iniziato non devono essere per forza tutte sedute di corsa ma anche alternando corse camminata o anche eseguendo degli altri sport sempre a bassa intensità come potrebbero essere ciclismo o trekking per esempio spero che questi consigli in una puntata un po' noiosi anche un po lunghetta probabilmente vi possano tornare in qualche modo utili sia che abbiate iniziato a correre da poco sia che banalmente vogliate migliorare le vostre prestazioni come sempre fatemi sapere la vostra in merito scrivendomi su telegram al mio account chiocciola lorenzo maggiani oppure via mail o su instagram mi invito anche in generale poi a seguirmi sui vari social nelle note della puntata ci sono tutti tutti i vari link e in generale ci sono tanti link se poi volete anche unirvi alla community dei pazzi che mi sostiene come ha fatto joseph e che anche ha scaturito ad esempio la puntata odierna sempre nelle note trovate il link per accedere al canale patreon direi che per oggi è veramente tutto cari runners pazienza e costanza nella corsa sono sempre le armi vincenti ci sentiamo alla prossima puntata